Si chiama Arrivare Sicuri ed è il nuovo progetto messo in piedi per promuovere l'educazione stradale tra i più giovani. Due incontri in calendario, uno indirizzato ai docenti e l'altro ai ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio aretino. Ce n'è bisogno, ritorniamo in tutte le scuole della città di Arezzo per fare dei corsi di formazione sulla educazione civica stradale insieme alle forze dell'ordine, alla polizia municipale, perché questa è una città che ha bisogno di sicurezza ma anche di educazione. I dati che abbiamo anche sulle dipendenze da alcol e droga sono allarmanti e quindi siamo assolutamente convinti del fatto che si debba essere protagonista di una lotta senza quartiere. Sì, abbiamo la richiesta specifica delle scuole, hanno aderito tutte le scuole medie del Comune di Arezzo e tutte le scuole superiori, quindi chiaramente anche le elementari e l'infanzia. Ci sarà la richiesta specifica sui vari temi e gli esperti entreranno in classe, questa settimana abbiamo il corso di formazione per tutti i docenti e lo spettacolo teaterale di San Patrignano che si chiamerà ogni giorno.